La musica è un linguaggio, non veicola concetti, non formula proposizioni, ma in contatto di direttamente con le nostre emozioni. E allora il benvenuto da parte dell'ensemble del liceo e della coreografia che hanno preparato le nostre ballerine. Vi auguriamo di trascorrere una piacevole serata insieme a noi ragazzi impegnati in tantissime attività, noi docenti e la nostra preside. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.